Volodymyr Zelensky non ha alcuna intenzione di cedere e nonostante le cattive notizie dal fronte rilancia, prepareremo una nuova controffensiva, nuove operazioni, non rimaremo fermi. Nel terzo anno di guerra stiamo preparando alcune sorprese per la Russia, il Sud è importante, come la difesa dell'Est, ha sottolineato il leader ucraino a Fox News, insistendo sulla necessità di avere quanto prima sistemi di difesa antiaerei e caccia militari dagli alleati. La cosa più importante è sbloccare i cieli, penso che questa sia la nostra priorità. Varcando la soglia del secondo anniversario dell'invasione, il leader ucraino prova così a cancellare gli insuccessi della controffensiva dell'anno scorso, imputando il risultato proprio ai ritardi negli aiuti militari, e si fa portavoce di un paese disposto a difendersi ad ogni costo finché sarà necessario. Dall'altra parte del fronte di ben pochi annunci ha bisogno invece Vladimir Putin, che si è limitato a congratularsi con gli autentici eroi del popolo che combattono in Ucraina a celebrare la moltiplicata produzione di armi e a visitare insieme al ministro della difesa Shoigu la tomba del milete ignoto sotto le mura del Cremlino per la giornata del difensore della patria.